Il Perugia che dopo essersi messo quasi al riparo da eventuali pericoli di classifica guarda al futuro e la domanda è una sola, resterà Pagliari? La risposta è difficile, il servizio. Con la salvezza oramai ad un passo, Perugia si interroga sul futuro della squadra di calcio. Le voci degli ultimi tempi si sono rincorse e le più frequenti riguardavano lo stato di salute della società. Voci più o meno nebulose che il presidente Covarelli ha deciso di chiarire intervenendo a fuoricampo. Non c'è nessuna acquirenta all'orizzonte, solo la volontà di rilanciare e costruire una squadra per vincere il campionato. Sinceramente ho voglia di riscattare un po' quest'anno. Ovviamente è un momento difficile di mercato per tutti, qualsiasi imprenditore. Io sfido qualcuno a dire che non è un momento difficile dove gli incassi sono sempre meno, la crisi ha coinvolto il mondo, quindi non è che ha coinvolto Covarelli o il presidente del Pisa. Quindi è normale che ci siano dei ritardi, che ci siano delle situazioni, però voglio dire si gestiscono. E che la resistenza dipende poi dalla robustezza delle spalle. C'è chi può resistere e chi soccombe. No vabbè, resistiamo, lottiamo, facciamo dei sacrifici, ma io questi li ho sempre fatti. I stipendi ai ragazzi avevo promesso, perché un pochino vanno anche tenuti, no? Sul chi va là, eh? Avevo promesso che, insomma, noi in febbraio abbiamo fatto febbraio, per cui due mesi sono fisiologici in questa categoria. Facciamo i nostri piccoli passi, però insomma sono passi corretti. E tutto quello che abbiamo, questi piccoli meriti, godiamoceli, perché comunque ce li guadagniamo tutti da soli. Il numero uno del Perugia rilancia la questione stadio, importante per il nostro futuro. Si dice deluso per il mancato sostegno dell'imprenditoria locale, interessata prima di tutto a denigrare, soprattutto nei momenti di difficoltà. Insomma, questo primo anno di presidenza è stato più difficile del previsto, ma ha anche insegnato molto. Non c'è allenatore che tenga se la società non è all'altezza della situazione, dice Covarelli. L'unità di intenti è la prima componente per ripartire con il piede giusto. Quanto al direttore sportivo, il presidente del Perugia prende tempo, anche perché dal punto di vista tecnico ed umano, Covarelli è soddisfattissimo di Pagliari, ma una sua eventuale riconferma è legata anche al nome del nuovo DS. Pagliari ha però lavorato benissimo, dice Covarelli, soprattutto a livello di gruppo. Un gruppo, dice il presidente, che ha dimostrato di avere ottime doti morali e che va ritoccato e non smantellato. Credo che quest'anno a Perugia mi rimane parecchio, mi rimangono degli uomini che io comunque ho imparato ad apprezzare, anche nei momenti difficili, degli uomini che mi hanno deluso e quindi ci sono delle circostanze diverse. Quell'anno non ho portato niente, nell'anno successivo quest'anno credo che per il prossimo anno abbiamo comunque tante cose che ci potranno dare delle soddisfazioni affiancate da delle novità, questo è ovvio. Devo dire che ho scoperto un ottimo allenatore prima di tutto, ma anche una bella persona, una persona che insieme a me ha lottato per cercare di risolvere nel miglior dei modi questa maledetta stagione, che non ha mai lasciato nulla al caso, che ha sempre lavorato con sincerità, con correttezza. E credo che oggi noi dobbiamo vedere un po' per il prossimo anno non solo le qualità delle persone, ma anche l'onestà intellettuale e la moralità e la capacità di essere uomini. Che lui ha. Che lui ha in maniera molto molto elevata. Io sono stato molto felice di aver affrontato questi ultimi periodi insieme a lui, perché siamo stati in panchina insieme, ci sentiamo cinque volte al giorno. Non si può dire che oggi abbiamo visto il miglior Pagliari, come sono convinto che non abbiamo visto il migliore di tutti i nostri giocatori, perché si è creata quest'anno una situazione un pochino così complicata, dove tutti noi abbiamo cercato di fare qualcosa, ma non abbiamo dato il massimo. Però abbiamo comunque, ci siamo conosciuti, abbiamo visto le persone sulle quali si può contare, proprio come uomini. Pagliari è uno di questi. Prematuro però dare l'ufficialità della cosa. Io dico che dobbiamo finire il campionato. Frasi Sibilline, il tecnico è sulla buona strada, ma dovrà finire bene la stagione. In caso contrario, significherebbe spegnere l'entusiasmo di oggi, che ha contagiato anche il presidente. Da parte sua comunque il tecnico incassa i complimenti di Covarelli, ma dice anche con estrema chiarezza quali sono le sue esigenze. Per me ci deve essere una programmazione in tutte le sue componenti, dove anche l'allenatore faccia parte importante nella costruzione della squadra, nella costruzione del gruppo. Però sono anche convinto che ricominciare da capo deve avere delle basi solide, perché magari poi l'affetto e l'amore alla gente che me l'ha dimostrato, quando cominci dall'inizio, cominciano poi a diventare anche capo espiatori delle certe situazioni, perché quando cominci stanno bene o male, sei subentrato una volta, sei subentrato due volte, perciò ci sono stati sempre degli attenuanti. Quando inizi ci devono essere dei chiari, perché dopo cinque anni di C1 queste persone e questi tifosi che amano così il grifo vogliono delle certezze. Perciò io, ripeto, sono onorato delle parole del presidente, perché sia come uomo e come allenatore ha riconosciuto il mio lavoro e questo mi fa enormemente piacere perché ha vissuto con me la quotidianità, perciò sa quando io amo sia il mio lavoro e poi magari questa maglia, però è al di là di questo, questa è una cosa personale mia, il legame che ho con questa città, ma ha visto la mia professionalità e la mia serietà. Insomma, tutto è rimandato a salvezza matematica, magari da centrare a Lezio uscita di Crotone con un'altra bella prestazione, poi sarà tutto più chiaro.